A Rocca Scalegna si sono ritrovati per affrontare un percorso di corsa con ostacoli artificiali, circa 130 atleti provenienti da tutta Italia. L'evento ormai giunto al nono anno si chiama We Revolve Run ed è adatto a tutti i livelli di fitness ed ha come obiettivo quello di far sfidare se stessi prima che gli altri attraverso i percorsi naturalistici e paesaggistici più belli e suggestivi d'Italia. Questa volta la tappa a Rocca Scalegna ha dato modo a tutti di vivere un'esperienza unica all'interno del borgo e del famoso castello medioevale oltre che sul percorso di 10 chilometri alla scoperta di una splendida natura. La tappa fortemente voluta dal sindaco Domenico Giangiordano ha coinvolto tutte le forze locali, Proloco, Abruzzo Wild rendendo la giornata perfetta sotto ogni punto di vista. L'organizzazione We Revolve Run ringrazia tutti. We Revolve Run è una gara di corsa con ostacoli artificiali, quindi pareti da scavalcare, filo spinato, un po' come i vecchi percorsi militari. Ci sono sospensioni, trasporti di oggetti pesanti, quindi gli atleti si mettono alla prova a 360 gradi e attraverso queste diverse capacità e abilità fisiche. Oggi per la seconda del 2024 siamo qui a Rocca Scalegna, un comune che ci ha accolto in maniera esemplare con un supporto meraviglioso, una cittadinanza stupenda e oggi come avete anche visto, un grande evento è riuscito per il nostro immenso piacere alla grande.